Organizzare questa mostra con le opere predisposte da tutti coloro che hanno partecipato al corso di caricatura. È la prima volta che lo facciamo noi come Università Sijei. Ha avuto 17 persone che hanno partecipato a questo corso e il corso, come voi corsisti sapete, per sottottenuto dal maestro Michio Gatti che è uno dei caricaturisti principali della nostra regione. E forse anche della nostra regione. Oggi vogliamo anche l'occasione per donare alle persone che sono assente, che viene nominato ma non ritirerà il diploma, abbiamo fatto un diploma apposta per questo corso di caricatura. Due parole al maestro. Non erano previste. Io non mi sono preparato. Veda, c'è una votazione, dai. Non è gratificato meglio di condotta. Devo dire due cose. Una è che questo corso per me è stata una sorpresa. Nel senso che ho partecipato al corso in un'atmosfera talmente amichevole e interessante che veramente non mi sembra neanche che siano passate queste elezioni. Anzi, mi sembra che ce ne dovrebbero essere ancora perché avevamo già iniziato a fare qualcosa di positivo che io spero non si fermi, ma vada avanti e ho raccomandato tutti di continuare a studiare a casa perché ogni giorno bisogna fare un disegnino. Allora, piano piano uno entra nell'abitudine. Tutti i giorni... Tutti i giorni... Penso di vedere i frutti... Vi prego però che questi frutti li possa vedere a breve. Non riesca a fare... Devo però anche ringraziare sia l'Università Siseo che ha avuto l'idea di questo corso sia soprattutto quelli che sono venuti a fare i modelli perché sono stati veramente gravi e pazienti e non hanno detto niente quando si sono visti. Hanno accettato di essere balsacrati in questo corso. Quindi grazie a tutti e arrivederci. Grazie.